La Camera di Commercio di Firenze è da sempre impegnata nell'obiettivo di promuovere e favorire la trasparenza e la regolazione dei mercati anche attraverso la rilevazione settimanale dei prezzi praticati nel territorio forentino ed in particolare con la formazione dei listini prezzi. La Camera di Commercio da sempre tra le sue attività di regolazione del mercato svolge un monitoraggio e una rilevazione dei prezzi all'ingrosso che riguardano sia i generi di largo consumo, quindi dai cereali ai vini agli oli, alle carni, al mercato degli aviconicoli, ai caseari, ai salumi, ai prodotti energetici quindi i prodotti petroliferi, la benzina, il gas, nonché interviene sulla rilevazione dei prezzi delle opere ed impiantistiche. I cittadini possono verificare se dei prezzi non li convincono, se devono fare una riparazione domestica o devono acquistare dei beni tipo un acquisto di vino o di olio, possono consultare il listino dei prezzi all'ingrosso direttamente sul sito della Camera di Commercio all'indirizzo www.fi.com.gov.it o anche sul portale appositamente dedicato ai prezzi della stessa Camera di Commercio che è registrato www.firenzeprezzi.it Ma dove deve rivolgersi il cittadino che vuole denunciare delle anomalie? La Camera di Commercio è chiamata a ricevere le segnalazioni dei cittadini su prezzi anomali, particolarmente esosi che possono essere stati rilevati sia da esercenti sia da artigiani. Il cittadino può segnalarci sia per mail all'indirizzo prezzi-fi.com.it queste anomalie che loro ritengono opportune o telefonando al numero verde nazionale che è l'800 95 59 59 che è attivo tutti i giorni feriali. Grazie a tutti!